Ripresi i lavori delle commissioni. La terza ha esaminato un provvedimento sull'agricoltura. Hanno ripreso l'attività anche la commissione speciale di inchiesta urbanistica e quella di indagine sugli appalti. Alpini in missione di pace. La brigata alpina taurinense è nuovamente in partenza per la missione di pace in Afghanistan dove guiderà il comando nato per la regione ovest del paese. A Torino presso la caserma Montegrappa si è svolta il 4 settembre alla presenza delle autorità militari, civili e religiose la cerimonia di saluto del contingente. L'avvio della spedizione coincide con la ricorrenza dei 60 anni di attività della gloriosa brigata. Ricordato il generale dalla chiesa. Il 3 settembre nella sala rossa del comune di Torino è stato commemorato alla presenza delle più alte cariche civili e militari il generale Carlo Alberto dalla chiesa. Ucciso 30 anni fa in un agguato di mafia. Presenti tra gli altri il ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri, il figlio del generale Nando dalla chiesa, il procuratore capo Giancarlo Caselli e in rappresentanza della regione Piemonte il presidente del consiglio regionale Valerio Cattaneo. La lingua dei segni e l'arte. Rendere i musei più accessibili alle persone sorde. Su questo tema il castello di Rivoli, il primo settembre, è ospitato una giornata di studi internazionali con la partecipazione di esperti provenienti dal MoMA e dal Guggenheim Museum di New York. All'incontro che si è svolto in italiano, inglese, lingua dei segni italiana e americana, erano presenti anche i consiglieri regionali Mario Carossa e Augusta Montaruli e il presidente dell'ENS Piemonte Corrado Gallo. Porte aperte a Palazzo Lascaris. Sabato 15 settembre riprende Porte aperte a Palazzo Lascaris, visite guidate alla sede del consiglio regionale rivolte a tutti i cittadini per gruppi da 15 a 30 persone al sabato mattina alle ore 10. La prenotazione obbligatoria può essere effettuata online compilando la scheda prenotazione cittadini oppure inviando il modulo tramite fax 011 57 57 425 al settore comunicazione e partecipazione via Alfieri 15 Torino. La prenotazione obbligatoria può essere effettuata online internazionale. Grazie a tutti.